Sofì Codegoni, vacanza preparto a base di mia nonna mi ha sempre detto. Sofì Codegoni si sta godendo alcuni giorni di relax a Ibiza insieme al fidanzato Alessandro Basciano. I due hanno deciso di partire per la loro ultima vacanza da piccioncini prima dell'arrivo della loro bambina Celin che dovrebbe nascere verso la fine del mese di aprile. Sofì ha pubblicato varie foto e storie Instagram in cui racconta ai suoi follower anche le prelibatezze che sta assaporando nel suo soggiorno spagnolo, l'influencer ha ricordato una battuta che le fa sempre la nonna. Sofì Codegoni è molto felice in questo periodo, sta vivendo molto positivamente la sua prima gravidanza. L'influencer è, poi, soddisfatta anche per quanto riguarda il suo lavoro, ha da poco promosso la sua linea di costumi da bagno con i quali sta scattando parecchie foto di Ibiza. Sofì si sta godendo anche la cucina locale e il suo piatto preferito sembra essere la paella che fotografa sempre. L'influencer nelle sue storie ha spiegato ridendo che la nonna le dice sempre, meglio portarla a fare shopping piuttosto che al ristorante. Sofì Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano hanno preparato tutto per l'arrivo della loro bambina Celin. Alcuni giorni fa, l'influencer aveva raccontato di aver portato a termine anche gli ultimi acquisti e di aver preparato il borsone per l'ospedale. Sofì non vede l'ora di abbracciare la piccola Celin. Sofì non vede l'ora di abbracciare la piccola Celin.